Missionari della luce di André Luiz capitolo 20 Addio, prima parte Aspettavo la continuazione dei miei nuovi studi in compagnia di Alessandro ma con sorpresa il mio amico Lysias mi portò un invito del caritatevole istruttore. Si trattava di una riunione di saluti. L'essi il piccolo e delicato messaggio dirigendo gli occhi verso il messaggero. Saluti? domandai. Lysias rapido mi chiarì. Sì, Alessandro, così come succede con altri orientatori della sua stessa posizione gerarchica di tanto in tanto si dirige ai piani più elevati svolgendo compiti di sublimi espressioni che ancora non possiamo comprendere. Credo che Alessandro debba partire domani in compagnia di alcuni mentori che gli sono affini e desidererà salutare questa notte i suoi collaboratori e apprendisti. E i lavori sulla terra, indagai. Non è Alessandro uno degli istruttori diretti di uno dei grandi gruppi spiritisti che conosciamo? Compagno rispose con ogni sicurezza. Naturalmente fu già disposta la dovuta sostituzione in accordo col merito e il miglior profitto dell'istituzione alla quale tu ti riferisci. E forse, sentendo la nostalgia che invadeva il mio spirito, Lysias aggiunse Quello che posso assicurarti è che il venerabile orientatore non ci dimenticherà. Dirigendosi a sfere più alte, la sua unica preoccupazione sarà il servizio di Gesù con l'arricchirimento di se stesso per esserci più utile. Nel frattempo, Biettai ci mancherà molto. Sento che ci lascerà a metà del lavoro, quando tanto avevamo bisogno del suo prezioso appoggio per l'apprendimento. Lysias percepì la natura passionale della mia riflessione e disse con fermezza Niente egoismo, Andrè. Sappiamo che Alessandro si assenta per lavorare, ma anche se la sua escursione fosse molto lunga e pienamente devota a riposo ricreativo, spetta a noi, suoi debitori, la partecipazione nell'allegria dei suoi elevati meriti. È necessario esaminare il bene che ancora si può fare, vibrando di giubilo e speranza per le realizzazioni future, per non essere indolenti e improduttivi. Pertanto, non dobbiamo dimenticare il bene che ci fece o che abbiamo ricevuto al fine di non essere ingrati. Quell'osservazione ebbe la virtù di risvegliare la mia coscienza. Mi collocai nell'indispensabile equilibrio emozionale. Modificai il mio atteggiamento intimo, reagendo contro le prime impressioni che la notizia mi aveva causato. Buon amico comprese e sorridendo affermò Inoltre, non possiamo dimenticare gli obblighi che ci aspettano. L'apprendimento nei differenti corsi in cui si presenta arriva sempre ad una fine. Benché la saggezza sia infinita, dobbiamo dimostrare l'applicazione pratica delle lezioni ricevute. Quale migliore testimonianza di assimilazione possiamo dare all'istruttore amico se non quella di ricevere il suo campo di servizio nel quale la sua bontà ci iniziò fino a quando egli ritornerà alla sua provvisoria escursione? È vero, esclamai. Rianimato dalle parole di coraggio del compagno, conversammo per alcuni minuti, promettendo Milizias di ritornare al crepuscolo per andare insieme alla riferita riunione. Al tramonto tornava l'appressato compagno e ci dirigemmo alla gradevole riunione. Contemplando dalla nostra colonia spirituale il firmamento si mostrava singolarmente bello. Numerose costellazioni brillavano abbaglianti e la luna, molto più grande di come appare vista dalla superficie della Terra, si mostrava più accogliente e tranquilla. Distanti dal bombardamento dei raggi solari che rinnovano la vita incessantemente, i fiori emanavano un delizioso profumo danzando tranquillamente al soffio della soave brezza. Molti apprendisti di Alessandro, commentava Lisi assalegramente, andranno a salutarlo questa notte. Manteniamoci all'altezza degli altri, conservando atteggiamenti interni di gratitudine e di serenità. Ero d'accordo con lo sforzo, ricordandomi delle sublime lezioni ricevute. Alessandro sapeva farsi amare, essere superiore senza vantarsi, umile senza servilismo, orientatore sempre disponibile, non solo per insegnare ma anche per imparare. Soddisfaceva gli elevati incarichi che gli erano attribuiti, senza alcun delirio dell'io. Profondamente interessato nel compiere i propositi del Padre e nell'accettare la nostra semplice cooperazione, approfittando di essa. In virtù della sua benedetta comprensione, quella all'antonamento dell'istruttore, benché temporale, mi faceva male allo spirito. In quelle intime disposizioni, contro le quali io reagivo produttamente, raggiungemmo il bel edificio residenziale, dove si sarebbe riunita l'affettuosa assemblea. Mi sorprese vedere il salone magnificamente illuminato. Non esisteva lusso nell'arredamento interno, ma le lampade a forma di stelle irradiavano un certo chiarore azzurro brillante, offrendo all'ambiente un'espressione di misteriosa bellezza, mischiata con elevata spiritualità. Adornavano le pareti delicate e simbolici arabeschi di fiori naturali, dandoci l'impressione di allegria e benessere. Presentato da Lisi a sei vari compagni, mi resi conto subito del piccolo numero di apprendisti che lì si riunivano. Comparivano solo i discepoli di Alessandro che possibilmente permanevano nella nostra colonia, 68 colleghi, inclusi 15 donne. Tutti i presenti si riferivano all'amorevole mentore con parole di ammirazione e rispetto. Eravamo tutti grandi dibittori del suo cuore. Una volta salutati tutti gli invitati, il benevolo istruttore venne verso di noi, dividendo l'affetto tra ognuno, senza spreco di attitudini esteriori. Era sempre lo stesso Alessandro, ammirevole e semplice. Fraternamente ci mise completamente a nostro agio. Parlò a tutti individualmente sui nostri compiti, studi e realizzazioni. Di seguito, con semplicità, cominciò a parlarci in tono paterno. Voi conoscete il motivo della presente riunione. Voglio salutare tutti, dato che devo assentarmi temporaneamente per elevate ragioni di servizio. Dallo sguardo dei presenti, notai che la maggioranza condivideva la mia nostalgia. Dovevamo molto a quello spirito saggio e benevolo. Dopo una piccola pausa, continuò. Conosco la purezza dell'amore che voi mi dedicate. Sono sicuro che non ignoriate l'entità della stima che vi consacro. È naturale. Siamo amici nella stessa impresa del bene e associati felici nell'escursione, nell'esecuzione della divina volontà. Compagni nella lotta costruttiva. Questa separazione ci peserebbe, sebbene effimera, se non conservassimo, la luce del chiarimento nell'intimo delle nostre anime. Nel momento, Alessandro fece un lungo intervallo, dirigendo il suo sguardo su di noi, come se tentasse di scrutare i nostri intimi pensieri, e proseguì. Alcuni collaboratori, ai quali molto devo, mi indirizzano a pelli affinché rimanessi nella nostra colonia di lavoro. Ringrazio la gentilezza. Commosso. Nelle mie parole, non c'è personalismo, ma sì, la stima reciproca e fedele che ci dedichiamo. Per questo urge considerare, amici miei, che il servitore umile non deve assorbire il posto che Gesù deve occupare nelle vostre vite. È molto difficile scoprire l'amore senza macchie e a Lui consegnarsi senza servire. Senza riserve. E perché questa difficoltà è evidente in tutte le strade della nostra evoluzione, quasi sempre cadiamo nel vecchio errore dell'idolatria. È certo che ci troviamo in un'assemblea di cuori semplici e amichevoli e che in questo luogo non c'entrano vaste e massicce considerazioni filosofiche affinché ci riduciamo al settore del sentimento benedetto. Ma non posso sfuggire alle opportunità di far serie riflessioni sul problema dei sacri legami che ci uniscono senza incantarti.